Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Star per un nuovo video ragazzuoli Qualche tempo fa mi sono imbattuto in un video che parlava di probabilità Nel senso quante probabilità c'erano di trovare le carte, alcune carte particolari, nelle varie casse Pertanto, io dato, non me ne intendo tantissimo, cioè non sono un probabilista Però comunque all'università ho fatto alcuni esami di probabilità Pertanto volevo analizzare insieme a voi la questione Andando a vedere l'aspetto, diciamo, temporale Quindi ogni quanto tempo, giocando in maniera continua a questo gioco Si possono trovare delle leggendarie Ovviamente il mio è un calcolo probabilistico Vediamo, insomma, se riusciamo a fare, a metterci a fare qualcosa di carino Uno studio interessante, lo facciamo insieme adesso Un video più o meno durerà decine minuti Come al solito, vediamo di trovare un tempo in cui si dovrebbero trovare le leggendarie nelle casse Aprendo tot casse al giorno Ovviamente, certo, è una stima Ci potete mettere di meno, ci potete mettere di più Io mi metto nella fascia media Cioè, in teoria, dovreste metterci questo tempo Partiamo con la cassa enorme Eccola qua Vediamo un po', là Il 94,2% per punti energia e monete Quindi, diciamo che mi serve un pezzo di carta Eccoci qua ragazzuoli, carta e penna presi E iniziamo a fare alcuni calcoli Abbiamo un 94,2% di possibilità di ottenere energia e monete Quindi power and cash Probabilmente intendono monete e energia Quindi entrambi Non so se sia monete e sia niente Vabbè, vediamo poi 2,7 Approssimiamo ragazzi 2,7% rari Super rari sono 1,2% Super Poi abbiamo mitici 0,2% mitici Ok, 0,0,08% I leggendari Leggendari Allora, facciamo un conto Intanto se effettivamente Poi c'è un altro 1% Vediamo se questo rispecchia effettivamente il 100% Calcolando ovviamente anche lo scarto Quindi siamo 94,2 più 0,8 Già siamo a 95 Più 2,7 Più 1,2 Più 0,2 Più 1 Ok, no, ci siamo Funziona Funziona, 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 funziona Ragazzuoli, ci siamo E va, qui ho sfasato il conto Vabbè, ma più o meno Occhi e croce Ci dovremmo essere Totalmente Il 100% Andiamo avanti Continuiamo a leggere Inoltre il 25% di possibilità Di ricevere biglietti degli eventi Ma questo è ausiliare Ovviamente non interessa il nostro calcolo Abilità stellari Io poi in verità non le ho viste Però si sbloccano stellari Si sbloccano a livello 9 Io non ho nessun brawler di livello 9 Abilità stellari rispondibile Ok, che hanno raggiunto il livello 9 Quando hai sbloccato tutti i premi Di un certo tipo Per esempio tutti i brawler rari Le probabilità di tenere altri premi aumentano Vediamo come Inoltre la fine di garantire esperienze equilibri Ok, vabbè Sti cazzi C'era un sistema di fortuna e sfortuna Questo che è quello che mi interessava Particolarmente La fortuna aumenta Allora, vediamo Eccolo qua Ogni volta che non trovi un brawler La fortuna aumenta Mentre se ne trovi uno La fortuna diminuisce A seconda della rarità del personaggio tenuto Ciò significa che con valori di fortuna elevati È più possibile ricevere un brawler leggendario Mentre con valori bassi Le probabilità sono minori Ok, qui abbiamo anche vari casi Vediamo un po' se Voglio vedere la cassa Megacassa Se ha lo stesso sistema Stesso sistema La megacassa E allora che cosa cazzo cambia? Che ne prende di più? Allora conviene aprire le casse Le casse enormi Che le megacasse effettivamente conviene Conviene Perfetto Allora, andanzi Quanti punti? Credo sia lo stesso anche Per la cassa brawl Cioè stessa cosa anche per questa cassa qua Pertanto Iniziamo a fare due conti Allora diciamo che io riesco ad aprire Una cassa Una mega No, questa come si chiama? Una cassa enorme Una cassa enorme La chiameremo E Più 10 Casse brawl Al giorno Quindi io mi apro Un totale di 11 casse Ovviamente nella nostra equazione Dobbiamo inserire anche Il numero di brawler Che abbiamo Perché più brawler abbiamo Più possibilità di ottenere una leggendaria Avremo Esatto Perché come funziona? Come vi dicevo Andiamo a vedere i brawler Io attualmente ho 15 brawler su 22 Ma non ho trovato nessun brawler leggendario Pertanto Escludendo questo Che si può trovare soltanto a 3.000 troveri Sti cazzi C'è uno epico E due mitici Ho questo valore di fortuna Io non so Come È considerabile Nel senso Noi andiamo a dividere Se un brawler Ce l'ho O non ce l'ho Poi Andiamo a vedere la rarità Quindi Con le varie Percentuali Che abbiamo qui In più Andiamo a considerare Il numero di brawler Che io ho trovato Nel corso del tempo Allora ragazzuali Mi sono andato a informare Su internet un po' Per cercare Di trovare Alcuni dati Informazioni Inerenti Alla fortuna Perché non avendo Questi dati Dell'incremento Della fortuna Non posso Creare stime Effettivamente A questo livello Diciamo Due Brawler Due tipi No in verità Puoi trovare un brawler Soltanto Per cassa Quindi andiamo a farne Undici Quindi mi apro Undici cassa Do la possibilità Di trovare Undici brawler Al giorno Allora Senza un fattore Di fortuna Se vi mancano Solo brawler Leggendari In undici giorni Dovreste trovare Un leggendario Undici giorni Dodici giorni Circa Quindi vi ripeto Se avete trovato Già tutti i brawler Tutti i brawler Tranne quelli Tre leggendari Aprendo Undici casse Al giorno Dovreste trovare In dodici giorni Un Brawler Leggendario Ovviamente Questo tempo Vi ha ridotto La fortuna Entra In caso Quindi io vi dico Che una volta Trovati Tutti i brawler In meno Di dieci giorni Che croce Insomma Ce la dovreste fare Ovviamente Se poi decidete Di aprire più casse Ora faremo Questo esperimento Perché quante casse Mi apro io Beh Devo aprire 125 casse 125 casse Io quindi In 125 casse Però il problema È che a me mancano Sti tre brawler Io in 125 casse Ho la certezza Pressoché Matematica Di trovare Che di meno Secondo me Di trovare Una leggendaria Una leggendaria Quante Però so Un botto Di cosa Perché 100 Me ne devo aprire Aspetta un attimo Negozio Costa un 30 Giusto Sì Penso di sì Andiamo a vedere Le casse norme Costa 30 30 per 125 Figa Sono 3750 Monet Con circa 200 euro Vi ti assicurate Una leggendaria Effettivamente È un po' tanto La fortuna Ovviamente In questo caso Vi aiuta Beh Per fare Un pack opening Di 125 Casse Brawler Tanto Effettivamente Non aiuta Quindi Diciamo Che il livello Di fortuna Sicuramente Sarà più alto Secondo me Con 2000 gemme Una leggendaria Portata a casa Sicuro Però certo Ovviamente Non ne vale La pena Cioè Del mio punto di vista Io non Assolutamente Poi se uno Ce li ha Può shopparli Tranquillamente Io Non credo Di shoppare 100 euro Di gemme Per il momento Però L'idea Secondo me È questa Potrebbe funzionare Credo Anzi Quasi fermamente In quello che dico Quindi Credo che Il fattore fortuna Influisca parecchio In verità Sono anche curioso Di andare a provare Questo fattore fortuna E andarlo a vedere Come funziona C'è un nuovo evento Possiamo andarlo Tranquillamente A prendere Guadalare Scuotere Ora non ho È tanto che non gioco A Brawl Stars Sono un paio di giornetti Perché sono stato impegnato Con la realizzazione Di altri video Ma secondo me Questa è una stima Abbastanza reale Di quello che si può fare Adesso mi faccio Altri due conti E poi vi do La risponso Comunque ragazzuoli Tante news In verità Non le ho Quello che posso dire È che secondo me Conviene aprire A questo punto In base alle informazioni Che ho È le Casse Quelle non le mega Ma le casse enormi O dopo il contrario Le casse enormi Esatto Conviene aprire Le casse enormi Costano di meno Trovi comunque La stessa possibilità Di trovare i brawler A questo punto Se devi prendere roba Ti fai la cassa enorme Non vedo l'utilità Attualmente Della mega cassa Probabilmente Puoi trovare Più cose Sicuramente Ho aperto Sia Casse enormi Che mega casse Però Per un giochino Di probabilità Ti conviene alzare Il livello di fortuna E quindi Aprire casse enormi A questo punto Credo sia così O almeno Questa è l'idea Che mi sono fatto Ovviamente Come ultima informazione Da darvi Quale ho Che queste casse qui Le casse brawl Beh Sono fondamentali Aprire casse brawl È fantastico Perché comunque Ti riesce a far aumentare La soglia Senza sprecare gemme Questo è importante Ovviamente questo è un sistema Che più partite fai Più gettoni Poi più Possibilità Per prendere i brawler Non tanto Per quanto riguarda Il livello di coppe Perché puoi salire o meno Però Ovviamente Devi livellare Devi farmare Ma questo Non è che vi devo insegnare Nulla di particolarmente Interessante Lo sapete È così Ci sarà l'evento Crypta Robo Salto Sempre Tra 14 ore Noi lo andremo a fare Ragazzoli Lo faremo insieme Magari lo facciamo anche In live Sempre qua sul canale Di Su youtube Detto questo Ragazzoli Per questo video È tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi rilasciate Mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Se non avete fatto Di condividere il video Per famicione persone Mi raccomando Passate tutti i link In descrizione Facebook Instagram Tele Mi raccomando Seguitevi su Instagram Emiliano.mare Noi siamo come al solito Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi